Ancora non c'è l'atteso zero contagi in Sicilia, ma diminuiscono i contagiati attuali, anche se il numero dei tamponi eseguiti nel fine settimana è stato nettamente inferiore rispetto ai giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono scesi di 7 unità, questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola, aggiornato alle ore 17 di lunedì 11 maggio. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 103.134, 731 in più rispetto a ieri, su 92.609 persone. Di queste sono risultate positive 3.339 persone, 12 in più rispetto a ieri, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.062 persone, 7 in meno rispetto al giorno precedente, 1.020 sono guarite, 18 in più e 257 decedute, 1 in più di ieri. Degli attuali 2.062 positivi, 287 pazienti, 2 in meno, sono ricoverati, di cui 16 in terapia intensiva, mentre 1.775, 5 in meno del giorno precedente, sono in isolamento domiciliare. Questa è la divisione degli attuali positivi nelle varie province, Agrigento 67, Caltanissetta 98, Catania 698, Enna 246, Messina 354, Palermo 386, Ragusa 37, Siracusa 109, Trapani 67.